L'Italia L'Italia fra i paesi europei è stata la prima a sostenere l'urto e l'ondata della pandemia. In particolare una grande pressione si è avuta sul mondo dell'emergenza sanitaria in quanto trasporti, ambulanze, con una richiesta che assolutamente era superiore alle capacità. Ma la grande professionalità e il grande cuore di tutti i volontari italiani hanno permesso di non lasciare nessuno da solo. Spencer da oltre 30 anni lavora per fornire strumenti e dispositivi al mondo del volontariato, a tutti gli attori dell'emergenza sanitaria. Vista la vicinanza di Spencer al mondo dell'emergenza sanitaria e di tutti i volontari, abbiamo pensato ad un simbolo di ringraziamento, un simbolo che potesse essere inviato a tutte le associazioni di volontariato. Sono scaturite varie idee, alcune simpatiche, alcune folli. Quella che ci è parsa più interessante era quella di avere un elaborato grafico, un qualcosa che simboleggiasse il ringraziamento ed il rispetto nei confronti di chi si è rimpegnato quotidianamente nell'emergenza sanitaria in questo anno e mezzo. La sfida è stata raccolta da LOIED, l'Istituto Europeo di Design di Firenze, che con i propri docenti, che hanno coinvolto studenti di diverse parti del mondo, hanno iniziato a lavorare su degli elaborati grafici che racchiudessero come tema l'emergenza sanitaria da Covid, il ringraziamento e il simbolo del sacrificio. Ci sarà un contest e da questo contest uscirà, diciamo, l'elaborato che sarà piaciuto di più. Il progetto è umanamente molto impattante, estremamente empatico e ha toccato tutti da vicino. Essendo un master internazionale, i punti di vista che sono venuti fuori e stanno emergendo attraverso la loro creatività e la loro capacità espressiva sono veramente particolari e molto poco scontati. Il ringraziamento che verrà da questo poster è un ringraziamento dal mondo nei confronti dei soccorritori italiani, perché grafici e studenti de LOIED di tutto il mondo hanno elaborato per fare un elaborato che verrà distribuito ai soccorritori italiani. I ragazzi sono riusciti a elaborare una serie di risultati visivamente molto diversi tra di loro. Il master è una classe internazionale e la ricchezza della classe si è tramutata anche in diversi punti di vista dovuti a diverse culture. Sono molto contenta dei risultati e spero che lo siate anche voi. Grazie mille a tutti di fuori, senza di voi non ce l'avremmo fatta, continuate così. Grazie mille a tutti, grazie mille a tutti. 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 Grazie davvero dal profondo del cuore perché ci siete stati vicini in un periodo in cui non si poteva. Grazie.